Male, 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 malissimo ragazzi, male, malissimo, sono qua in live, tra l'altro sono pure in live su tre uomini, un pallone che cambia nome a mezzanotte, poi vi dirò che nome è Male, malissimo, malissimo, tanto seguitele con me le partite, no? Tutte le partite le faccio in telecronache, telecronaca, a me non me ne frega niente il rigore al novantesimo è un punto che non ci serve, oggi dovevi vincere, dovevi vincere e hai perso eh, dovevi vincere e hai perso ragazzi, hai perso due punti, perché domani cosa ti pensi, quelli di 3-0 vincolo almeno sai, per tenere il campionato aperto fino alla fine, cioè hai vinto con la Roma, importantissimo però se pareggi oggi, non ti è servito la vittoria con la Roma, oggettivamente è così ragazzi purtroppo se pareggi in casa con l'Udinese, lo so che si chiudono, sei lì senza punte, quello che vuoi però, hai perso due punti, purtroppo ragazzi, quest'anno, lo so che loro la prenderanno male sta cosa però bisogna essere oggettivi e obiettivi, avevamo detto così, che quest'anno della pandemia avrebbe vinto il campionato la squadra con meno infortuni e prima in classifica la squadra con meno infortuni ragazzi è oggettivamente così, non è solo una questione di forte, non forte è prima in classifica la squadra che ha meno infortuni basta, perché appare infortuni, come ce li abbiamo noi, come ce li ha la Juve, come ce li ha la Roma come ce li hanno avuto le altre, probabilmente anche l'Inter sarebbe lì l'Inter sta andando molto più forte delle altre, perché non ha infortuni perché se no, qualche punto per strada, l'avrebbe perso anche lei magari poi lo vincevano stesso il campionato, ma magari no, ma magari no detto questo ragazzi, stasera io so già che saranno tutti incazzati neri perché è normale essere incazzati neri ho sentito persino gente dire di Donnarumma, vendiamo Donnarumma ragazzi ci ha regalato 20 punti Donnarumma, oggi è sbagliato, era sbagliato poi c'era l'uomo davanti, la disturba, è un errore oggettivamente è un errore, soprattutto fatto da il portiere più forte del mondo e se non è il primo, è nei primi tre oggi ha sbagliato, ha sbagliato, tanto ci segna sempre Becao sempre Becao ci segna, come che questo qua ci segna, sempre a noi ci segna come che questo non fa altri gol, fa due gol nella sua vita, nella sua storia due gol ha fatto, due gol con noi ha fatto bene aver incitato un calcio in faccia, guarda ha fatto, intanto ho sentito pure gente che volevano il rosso a Rebic quello, allora, non è neanche giallo perché quello non è manco visto a Rebic cioè Rebic sta correndo, questo cade per terra e non è che può sparire cioè lì come faceva ad evitarlo, è il passo non è che lo poteva evitare, come faceva a evitarlo? non era manco giallo, che poi tra l'altro o gli dà il rosso o non gli dà niente cioè il giallo che senso ha? è alto calcio in faccia quindi se è alto calcio in faccia, se era volontario gli dà il rosso siccome non era volontario non era niente giallo, vabbè però non è per l'arbitro che abbiamo perso rigore, c'è pure qualcuno che si lamenta coloro che è saltato con le mani alte voglio il Rebic, 50 ne voglio dire voglio il 50 rigore tra l'altro in live tutto il tempo adesso vi danno rigore, adesso vi danno rigore toh che ce l'hanno dato il rigore toh che ce l'hanno dato poi 1-1 che serve a poco secondo me però oh, mai che facesse un miracolo il Parma rimane a meno 3 che non cambia niente come essere a meno 4 non cambia niente perché il problema è che questi domani vincono e quindi vai a meno 6 e meno 6 vuol dire 3 partite perché c'è pure lo scontro diretto 3 partite su 13 diventa difficile ragazzi difficile però, vabbè la Roma alla fine ha vinto pure la Roma ha salto al novantesimo il Napoli si è fermato l'Atalanta continua a dilagare bisogna stare attenti un po' alla Roma è vero che abbiamo lo scontro diretto in vantaggio però stasera di cosa vi voglio arrabbiare ragazzi? ci mancavano le idee lì davanti oggettivamente senza Ciala e Ibra lì davanti siamo spuntati con una squadra che si chiude come un udinese se non hai i giocatori che ti aprono lì dietro non vinci non vinci le partite perché Leao è forte se c'è campo se non c'è campo come stasera vede poco la palla Rebic purtroppo non ha fatto bene oggi secondo me forse innervosito già era il primo minuto per quella storia di Beckham non lo so però oggi non ha fatto bene Diaz quello che era un po' più pimpante il primo tempo poi si è spento Castiglieco che è inutile io non è che lo dico da oggi Castiglieco è inutile lo dico da tanto tempo confermato che l'affaticamento di Tomori e Calabria era solo una scusa finta perché alla fine stavano bene hanno giocato quindi non avevano nulla né Tomori né Calabria era semplice turnover come avevo anticipatamente detto ci sarebbe servito Calabria dal primo minuto o Tomori dal primo minuto cambiava qualcosa non lo so oggi secondo me ci serviva qualcosa di davanti che non avevi hai preso Mandzukic proprio per queste partite qua per quando ti manca Ibra e si è rotto pure Mandzukic e quindi ragazzi ecco quando dico che è in testa classifica la squadra con meno infortuni non è che lo dico per caso cioè c'è la mia vibra e c'è la ha rotta in più c'è la ha rotta anche Mandzukic è difficile poi risolvere queste partite perché queste partite dove l'Udinese si chiude bene la risolvi o con un rigore che quello te l'ha regalato o con qualcuno fisico tra l'altro non anche chiama un cross cioè Calullo io gli voglio bene gioca anche bene mi piace quando è sull'uomo personalità sale fa anche delle belle finte ma non sappiamo crossare cioè tra lui Castiglieco abbiamo fatto un cross giusto Teo Teo ha battuto 5 o 6 angoli uno più indegno dell'altro cioè tutte queste palombelle altissime quasi fuori dal campo ma cosa serve battere l'angolo così l'angolo lo devi battere teso va battuto teso dentro l'area cioè continua a battere il problema è che chi li fa battere cioè al secondo che tira così Pioli lo chiami e dici ma non tirano più gli angoli fa li battere a qualcun altro non ha battuto un uomo decente di là Diaz uno l'ha messo decente per per come vuoi non vuoi uno l'ha messo decente perché sì ma non è servito e ragazzi purtroppo mi ha perso punti c'è chi dice addio allo scuretto oggi io l'ho già detto prima del derby cioè dopo il derby purtroppo aver perso il derby fa sì che lo scudetto è andato oggettivamente però finché la matematica non ci condanna ci proveremo non mi sento di fare di mettere la croce sopra nessuno cioè non mi sento di star lì a mortificare boh non lo so chi mortificherete chi mortificherete Leao chi mortificherete Romagnoli ha fatto per un salvataggio quasi quasi può fare il portiere che volete mortificare fatemi capire Teo perché queste partite forse deve risolvere Teo non lo so però sinceramente non mi sento di mortificare nessuno non abbiamo trovato lo spunto lì davanti non abbiamo giocato male non abbiamo trovato lo spunto poi una papera di Gigio può capitare è la prima che fa da due anni mi pare ha regato il gol all'Udinese siamo riusciti pure a trovare il pareggio mi è piaciuta anche la reazione perché in realtà mi ha avuto anche una reazione cattiva e rabbiosa per non perdere questa partita quindi il Milan ha chiuso bene oggettivamente poi vabbè Leao che toglie la parola tra i maker mei te che non serve continua a farlo giocare Pioli non serve mei te continua a farlo giocare in realtà si è rotto pure tonali non è che poteva far diversamente più si è rotto pure tonali vabbè ragazzi niente sono triste torno in live vi aspetto in live su tre uomini un pallone mezzanotte cambieremo il nome e niente iscrivetevi al canale vedete il like ci vediamo domani per l'analisi vediamo se la live direction della pace quella trotta non è che l'avete seguita tanto vedremo ciao